Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. In primo piano sui giornali di oggi si parla della questione dei vaccini, di un'accelerazione che potrebbe finalmente arrivare grazie all'invio da parte dell'Unione Europea all'Italia di 54 milioni di dosi entro il mese di luglio. Quindi regioni che già negli ultimi tre giorni hanno impresso una forte accelerazione alle somministrazioni e quindi potrebbe esserci finalmente quel cambio di passo tanto atteso. Non si parla naturalmente sui giornali di oggi anche delle questioni legate alle riaperture. In settimana arriverà il nuovo decreto legge con tutte le indicazioni necessarie e sotto la lente il focus è però sulle questioni che riguardano la scuola perché è previsto il ritorno in presenza di tutti gli alunni al 50% dei superiori soltanto nella zona rossa, ma i presidi lanciano allarme sul fatto che le questioni che riguardano la logistica non sono state risolte e poi c'è naturalmente il versante sempre molto rischioso dei trasporti. Si parla naturalmente anche dei recovery plan, il premier Mario Draghi in sostanza ha assicurato che verranno rispettati i tempi e sul fronte degli esteri c'è un allarme per le condizioni di salute di Navalny con la richiesta pressante da parte della figlia di farlo visitare da un medico mentre naturalmente le autorità russe ridimensionano. Allora partiamo dal Corriere della Sera, un'altra delle questioni importanti su cui si sta ragionando è il pass, un pass per l'estate sicura, spostamenti ed eventi, il governo studia tre ipotesi di lascia passare, calano i contagi, meno ricoveri, scuola, i timori di presidi e regioni entro luglio 54 milioni di dosi dall'Europa di spalla. Visto che ci siamo vi segnalo questa notizia di cronaca che viene da Colleferro vicino Roma non solo Willy, quei pestaggi tra ragazzi a Colleferro, sabato pomeriggio è stato pestato un altro ragazzo con conseguenze fortunatamente gravi ma non come quelle di Willy però naturalmente la questione si ripropone. A centro pagina la fotografia di Navalny, ora l'Unione Europea avverte Mosca Navalny va liberato, l'oppositore in gravi condizioni, la richiesta d'aiuto della figlia con l'appello a Putin anche a bisogno di cure. Ancora la questione che riguarda il mondo del calcio perché c'è una notizia che potrebbe essere dirompente, Milan, Inter e Juve nella Superlega. La UEFA chi entra è escluso da tutto. Terremoto nel calcio, 12 club europei annunciano la nascita di una Superlega tra loro anche Milan, Inter e Juventus. L'UEFA minaccia chi aderisce sarà escluso da campionati nazionali e manifestazioni. L'alto là del presidente francese Macron e del premier britannico Johnson. Andiamo a vedere anche l'apertura della Repubblica. Vedete in taglio alto ritorna questa notizia che abbiamo appena visto, la battaglia sul calcio europeo e poi a centropagina milioni di test per la scuola. Ci sono le parole di Abrignani intervistato oggi dalla Repubblica, componente del Comitato Tecnico Scientifico che parla del ritorno in classe e dice tamponi salivari una volta a settimana per tutti gli studenti. Il governo pensa a ingressi scaglionati nelle aule e l'Unione Europea che annuncia entro luglio in Italia 54 milioni di dosi di vaccino Draghi che stringe sul recovery la cabina di regia a Palazzo Chigi. Oggi sulla Repubblica per quanto riguarda il versante prettamente politico c'è un'intervista a Matteo Renzi al PD, dico Conte potrebbe lasciare i 5 stelle. Andiamo a vedere anche la stampa, apertura dedicata ai vaccini, dall'Europa 54 milioni di vaccini e da giugno stop ad AstraZeneca, da oggi ripartono le elezioni in Campania, tra sette giorni ritorneranno in classe 8,5 milioni di studenti. La questione delle riaperture ancora a scontro con le regioni, Bonetti c'è un'intervista oggi sulla stampa, anche se ricrescono un po' i contagi, dice la Ministra, non è grave. Ancora di spalla il racconto delle proteste in Val di Susa, un'altra notte di guerriglia per i Notav e poi sul fronte dell'economia parla Mendola ora in recovery, poi le riforme di fisco e di lavoro. Il messaggero, apertura dedicata alla questione delle riaperture, il locale è chiuso, ok più vicino racconta il messaggero, il piano del governo da metà maggio via libera al pranzo ai ristoranti senza The Hors e anche qui parla a Brignani del Comitato Tecnico Scientifico che invece però dice, per quanto riguarda i dispositivi, mascherine fino all'autunno e poi c'è il nodo dei matrimoni persi 4 su 5. Gianni, un patto Lazio-Toscana contro il turismo, mordi e fuggi, il governatore propone più treni per il centro e poi super bonus 100%, troppa burocrazia flop da 18 miliardi, norme complicate per i lavori nei condomini usati solo 730 milioni e lancio che dice prolungare al 2023. E anche qui si parla dello scisma del calcio e di chi aderisce, è fuori con le ferro sotto shock, ne parla naturalmente il messaggero, io aggredito in modo vigliacco come Willy e appunto sembra che anche questo ragazzo avesse difeso nei giorni precedenti un amico proprio come aveva fatto Willy. Andiamo al sole 24 ore, quotidiano economico, dove si fa il punto della situazione sulla crisi dei consumi, famiglie, spese, K.O. da risparmi e aiuti, le leve della ripresa. Poi le questioni che riguardano quest'estate, affitti, vacanze con clausole salva disdette, rimborsi in caso di rinunce per improvvise malattie o limite agli spostamenti, contratti con Polizadoc in campo agenzie e grandi intermediari come Airbnb. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del Fatto Quotidiano Salvini, indagare speranza e no emergenza fino a luglio. Invoca con Renzi una commissione sulla pandemia. Ancora in taglio alto c'è un'intervista questa mattina sul Fatto Quotidiano a Paola Taverna dei Cinque Stelle, sui vitalizi ricorrere subito, ma noi siamo gli unici a protestare. Li rivuole anche la Lega, dice appunto la Taverna in questa intervista. Vediamo anche l'apertura del domani. Eccola qui, transizione ecologica con conflitto di interessi. Il ministro Cingolani è ancora dirigente di Leonardo, società con forti interessi sul recovery plan. Apertura del giornale, eccola qui. Report sparito. Speranza sapeva, ecco le prove. In una mail il capo europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità inchioda il ministro della Salute. L'ho incontrato, era deluso dal rapporto sull'Italia. Si parla del rapporto sul modo in cui l'Italia ha gestito la prima fase della pandemia, che poi appunto è stato ritirato. Libero. Salvini è innocente, ecco le prove che non ha colpe. Le carte del caso Open Arms. Il diario di bordo della nave dimostra che il leghista non ha causato sofferenze ai 147 migranti. Il Viminale ha sempre seguito le norme. Apertura anche del tempo, eccolo qui. Ora processate. La Lamorgese, la ministra dell'interno come Salvini. Il leader della Lega la sbarra per sequestro di migranti dopo il blocco dell'Open Arms. La responsabile del Viminale fece peggio. Ha tolto la libertà a quegli stranieri per tre mesi. Una lettera fa luce sul caso. Profughi prigionieri, not spot, senza alcuna base legale. Poi il tempo ci racconta anche che scoppia la guerra dei tavolini all'aperto. I ristoranti romani chiedono più spazi esterni. La raggi consente sulle furgoni di entrare nella ZTL. Vediamo anche la verità. Eccolo qui. Reddito agli extracomunitari. Migliaia sotto inchiesta. Nella città di Grillo. Un filone sul sostegno alla cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle. Già iscritti circa 500 stranieri. Molte più posizioni al vaglio. Si indaga su assegni illeciti ottenuti tramite i CAF. I soldi quasi tutti all'estero. E poi ancora vediamo anche l'apertura. Eccola qua del mattino. Che fa un focus sulla scuola. Rientro tra i rischi. In Campania ritorno a metà. Benevento e Avellino dicono di no. Chiusura in decine di comuni. L'assessore regionale. Molti prof in quarantena. La DAD non è finita. Tutti in classe. Ho paura. E poi ancora concorso Campania. Senza un vero esame non si può assumere. Caso Ripam Brunetta ci sarà un test scritto. Aver partecipato ai corsi non dà diritto al posto. Allora andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani. Abbiamo detto che questa mattina l'attenzione è un po' tutta concentrata sulla questione dei vaccini e delle riaperture. In particolare il Corriere della Sera parla del pass per gli spostamenti. Così garantirà le vacanze. Oggi sul tavolo del governo il piano per far ripartire la mobilità anche tra le regioni arancioni e rosse. Il nodo del coprifuoco. L'articolo appunto ci racconta che oggi anche il CTS si occuperà delle riaperture. Il cronoprogramma è già fissato. E indietro non si torna nemmeno sul coprifuoco. Nonostante le richieste delle regioni a guida centrodestra di spostarlo alle 23 o a mezzanotte. Gli scienziati consegneranno un parere a Draghi che offrirà poco spazio di manovra. In realtà dal governo è già arrivato a netta contrarietà. Perché quindi per adesso il coprifuoco resta alle 22. Visto che siamo su questa pagina vi segnalo anche questa notizia. Ecco la qui Gerusalemme in Israele cade l'obbligo di mascherina all'aperto. Il primo paese al mondo. Ancora sempre dal Corriere della Sera si parla della questione dell'autocertificazione. Tester sanitario oppure card digital. Le tre ipotesi allo studio per questo pass appunto per spostarsi. Tra le regioni si pensa anche all'utilizzo dell'app io usata per il cashback. Nel decreto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 di luglio. Decreto appunto che arriverà in settimana. Perché lo stato di emergenza attualmente scade il 30 di aprile. Per spostamenti tra le regioni che si trovano in fascia di rischio arancione o rossa. Bisognerà aver fatto il vaccino essere guariti dal covid-19. Oppure presentare un tampone antigenico molecolare negativo. Effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio. Tra le ipotesi prevalenti sulla sciaparsare. La prima è consentire lo spostamento almeno in una prima fase a chi presenta un certificato della ASL. O un'autocertificazione che attesti i requisiti richiesti. La seconda ricorre al testerino sanitario sul quale verrebbero caricati i dati. La terza ipotesi è realizzare una tessera digitale. Quindi si sta studiando come poter gestire e soprattutto conferire questo lasciapassare. E poi ci sarà anche la questione a livello europeo. Perché ci sarà il pass per gli spostamenti in Italia che dovrebbe essere pronto dal primo di giugno. Sempre sul Corriere della Sera le questioni che riguardano la scuola. Perché appunto da lunedì prossimo in sostanza tutti gli studenti torneranno in classe. L'unica eccezione sarà in zona rossa per le superiori che saranno al 50%. Ma ci sono ancora dei problemi. Mascherine, distanziamento, i presidi, un rebus rientrare al 100%. Oggi ci sarà un incontro tra governo e sindacati. E si intende il parere del Comitato Tecnico Scientifico per capire appunto come gestire la situazione. Quindi in presenza dal 26 di aprile c'è anche la riapertura delle università in ballo. I mezzi pubblici e lo screening. Perché naturalmente la questione sono gli assembramenti sui mezzi pubblici. E poi le aule e il nodo della questione delle distanze. Ancora sempre dal Corriere della Sera vi segnalo questa intervista al presidente della conferenza delle regioni. Fedriga con l'apertura al 50% ci si era già spinti a un buon punto. Bisogna agire sugli orari dice Fedriga rispetto alla scuola. La rete dei trasporti dice è un problema. E poi c'è Miozzo, l'ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che adesso appunto è l'attuale consigliere del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Che dice test nelle classi per ridurre i rischi. E vi segnalo anche quest'altra notizia che troviamo sempre sul Corriere della Sera. Anche nei supermercati il kit per il tampone Fai da te costerà tra i 6 e gli 8 euro e sarà distribuito in Europa da un gruppo austriaco. Per effettuarlo servirà un po' di perizia seguendo con attenzione le istruzioni. Andiamo sulla Repubblica. Eccola qui perché anche qui si parla del nodo delle scuole. E c'è questa intervista ad Abrignani del Comitato Tecnico Scientifico che rispetto a questo dice subito test salivari per milioni di ragazzi. Il rientro sarà in sicurezza. E a questo proposito dice costano pochi euro e sono efficaci al 95%. Possiamo iniziare facendone 10 milioni a settimana anche all'ingresso di teatri, cinema e di ristoranti. E rispetto appunto a questa questione gli viene detto appunto, lui spiega per quanto riguarda le questioni della scuola. Oggi è vero che non è tutto migliorato ma abbiamo una curva dei contagi in leggera discesa. Una vaccinazione tra il personale scolastico arrivata a livelli molto alti. Il 76% di immunizzati è un valore secondo solo a quello dei vaccinati tra il personale sanitario. La scelta di dare la precedenza nella campagna vaccinale agli insegnanti rispetto agli anziani più fragili può essere criticata. Ma è stata la nostra scelta. L'abbiamo presa in una situazione d'emergenza in cui nessuno ha la verità, dice, in tasca. E dunque ancora dice perché non abbiamo ancora capito quanto sia alto il rischio di contagio tra i banchi. Dice gli studi recenti non indicano la scuola come luogo di particolari rischio. Ma è vero che su questo punto non c'è unanimità tra gli scienziati. E dunque appunto è sempre una questione che divide. Sempre dalla Repubblica il Viminale controlli antimovida per far rispettare il coprifuoco. In vista della riapertura dei locali la sera le forze dell'ordine saranno concentrate nelle zone più a rischio. E Salvini, racconta la Repubblica, abbassa i toni. C'è un'intervista al presidente dei sindaci italiani De Caro sulla Repubblica che dice limiti necessari, con i sacrifici adesso salviamo la ripartenza estiva. E poi dice la Lega contro il coprifuoco, gli scienziati dicono che bisogna evitare assembramenti, la Movida preoccupa. E dunque anche i sindaci si preparano ad affrontare questo aspetto. Sempre dalla Repubblica invece vi volevo segnalare questa intervista sul fronte politico che troviamo a Matteo Renzi. Vediamo se riusciamo, eccola qui, ad aprirla. Tra PD e 5 Stelle l'Alleanza non funzionerà. Conte dice Renzi in questa intervista potrebbe lasciarli. Chi sbaglia, chi consegna a Salvini la bandiera delle riaperture, intestiamocela noi riformisti. Non è la Lega a fare la differenza, ma Draghi, Bin Salman, dice non mi pento di nulla. La mia attività internazionale non è un crimine rispetto alle leggi. Non c'è alcun conflitto di interessi. Poi ancora vi volevo segnalare giusto l'attacco di questa intervista a Matteo Renzi. Ricoletta punta ad un centro-sinistra largo che dialoghi con i 5 Stelle. Lei è dentro o fuori, noi dentro i 5 Stelle. No, dice questa. E' anche la tesi di chi tra i dem ha visto all'opera i grillini a cominciare dai romani che hanno subito l'amministrazione raggi. Andiamo un attimo sulla stampa. Eccola qui, da qui velocemente volevo farvi vedere le questioni importanti che riguardano il recovery plan. Eccole qui. Draghi, recovery, l'Italia rispetterà i tempi. Un decreto per la cabina di regia sui progetti. Il Presidente del Consiglio è ritato per le voci su possibili ritardi. I partiti vogliono più spazio per governare. E appunto questo è il timing. Gli ultimi incontri dal 19 al 23 aprile. Poi il 26 al 27. Mario Draghi praticamente presenterà la versione definitiva del piano di rilancio in Parlamento. Il 30 aprile invece è il termine ultimo per consegnare tutto a Bruxelles. E vi segnalo sempre dalla stampa questa intervista ad Amendola. Il piano non è il libro dei sogni. I partiti devono fare le riforme. Il sottosegretario con delega agli affari europei dice troppe idee utopistiche, servono investimenti mirati. Ed è tutto per la rassegna stampa. E noi adesso diamo il buongiorno a Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo una discreta quantità di nuvole, di piogge e anche di temporali questa mattina. Non ci facciamo mancare niente. I temporali segnalati sul basso tirreno, sulle coste della Calabria, sulla Sardegna occidentale, poi sulla Corsica, qualche pioggia anche al nord. Insomma, una situazione, come ci si aspettava, che è un po' peggiorata, soprattutto nella seconda parte della giornata di ieri. Vediamo le piogge previste nella prima parte della giornata di oggi. Evidentemente, diciamo, seguono un po' la linea che abbiamo visto. Poche al nord, qualcuna al centro. E invece, soprattutto al sud e Sardegna, le precipitazioni ci sono. Deboli complessivamente, ma localmente ancora moderate. O abbiamo visto i temporali anche localmente forti. Vediamo nella seconda parte della giornata di oggi. Si attenuano i fenomeni più intensi in Calabria, sicuramente in Sardegna. Si presentano sull'Appennino meridionale. Però vedete che dalle zone da metà del centro verso nord troviamo molte schiarite e qualche possibile pioggia isolata. Quindi è il centro-sud che ha un tempo più instabile. Vediamo l'evoluzione. Giornata di domani, ancora piogge deboli al sud, al centro, però si estendono un poco al nord quelle moderate o localmente forti, soprattutto sul nord-est. Quindi vedete che, insomma, anche dove le cose vanno, tra virgolette, meglio, non sono sicuramente sicure, possiamo dire. Arriviamo alla giornata di mercoledì, in cui se migliora da qualche parte, migliora un poco, se attenuano i fenomeni diventano un po' più rari al centro-sud, mentre al nord se cambia un po', peggiora. Quindi c'è questa specie di bilancia, insomma, un po' l'uno, un po' l'altro. Di tempi stabili, caldi, primaverili, insomma, non ce n'è traccia. Le minime di questa mattina, sempre sotto la media, anche se non tantissimo, in qualche caso c'è stato un qualche piccolo recupero. E chiudiamo con lo stato dei mari, che sono poco mossi. Vedete il celeste, l'adriatico settentrionale, il tirreno centro-settentrionale, ma poi la fascia occidentale, quella meridionale, compare questo colore, diciamo, violaccio, che parla di un mare molto mosso, che è 4 su una scala di 9, quindi se vogliamo non è neanche tantissimo. Se volete ci vediamo alle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Agarulli. A più tardi. A più tardi.